Ci voleva questa vittoria, finalmente, soprattutto avete sfruttato lo special team? Assolutamente, abbiamo fatto due gol in power play e poi anche due in PK, che è una cosa ottima. Siamo contenti di vincere con una squadra molto forte, non era veramente facile, però siamo contenti e cerchiamo di andare avanti così. La classifica è molto corta adesso, non siete lontani dal sesto posto? Sì, infatti, noi cerchiamo di giocare ogni partita così, con questa grinta, così possiamo vincere con chiunque. E poi domenica ci aspetta già il Linz in casa, quindi è un altro compito molto duro, però se giochiamo così possiamo giocarcela con tutti. Cosa è che manca per dare un po' di continuità ai risultati? Sicuramente i special teams sono decisivi, come si è visto oggi, in 5 contro 5 era molto combattuto, direi, in tutte e due le zone, quindi se siamo capaci di sfruttare i special teams sarà sicuramente decisivo per l'andamento del resto della stagione.